Un'analisi critica della televisione degli anni 90 e 2000 in chiave femminista. Paola Cortellesi, Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Hilary Blasi, Ambrangiolini. Volti della televisione italiana esempio di emancipazione per il pubblico, ma anche di tv spazzatura. Donne del piccolo e grande schermo che nel tempo hanno influenzato e continuano ad influenzare la vita quotidiana dello spettatore. L'autrice di origini molfettesi, Maria Cafagna, le presenta e analizza questo fenomeno nel suo saggio di formazione dal titolo Cattive Maestre. Sono state un po' a volte delle figure aspirazionali, le guardavamo aspirando a diventare loro, come nel caso di Hilary Blasio, di Belen Rodriguez, che sono rappresentato anche dei modelli femminili di bellezza, o nel caso delle ragazze di Nonella Rai per sentirci come loro, magari per immedesimarci in loro e sognare di essere anche noi a bordo piscina a ballare e a cantare. Tutte le donne che ho intervistato, da Michela Girò a Daniela Collu, mi hanno appunto raccontato questa cosa. Le guardavamo perché erano come noi. E questo principio di immedesimazione poi è qualcosa che ci siamo portati appresso come società. Negli anni 90, 80 e inizio 2000 c'erano le donne della televisione. Adesso ci sono le influencer e i content creator che imperversano su TikTok o su Instagram. Sono la riproposizione di un modello che è antichissimo, che è ciò che noi ci aspettiamo che una donna dovrebbe essere. Una casalinga, un'imprenditrice arrembante, una imprenditrice digitale. Sono tutti modelli che vengono veicolati attraverso dei media che non sono il riflesso di quello che la società ci chiede e in molti casi ci impone di essere come donne. Secondo me è importante cercare, mettersi in cerca a 14-15 anni di tante, anzi di aprire la mente attraverso i libri, ma anche attraverso i social, attraverso i film, attraverso le serie tv e attraverso l'incontro con l'altro, anche attraverso lo sport. Io per esempio sono stata una bambina che ha fatto pochissimo sport, né pago le conseguenze, quindi ecco se trovassi una ragazzina di 14 anni che mi chiedesse un consiglio ti direi fatti la tua vita però mi raccomando fai sport qualunque esso sia e poi impara una lingua perché è importante in un mondo così globalizzato, internazionale, che le nostre ragazze abbiano tutti gli strumenti per potersi autodeterminare nel nostro paese ma anche fuori. La presentazione del libro si è tenuta nella libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro di Biceglie. Come ogni mese cerchiamo di mettere insieme e di creare appunto un calendario che abbia un'offerta molto eterogenea rispetto a presentazione di libri. Una serie di incontri che hanno come appunto temi principali l'attualità o comunque determinati aspetti della realtà che ci circonda o semplicemente, dico semplicemente ma non vuole essere riduttivo, i romanzi e quindi le storie dentro le quali ci piace stare e appunto viaggiare.